Pesaro 2024 è partita. Ieri la platea al completo del teatro sperimentale ha accolto il primo evento ufficiale del percorso di avvicinamento al prossimo anno, un appuntamento che è nato sotto il segno della partecipazione e del coinvolgimento di tutta la comunità. Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla bellezza, Agostino Reitano, direttore della candidatura di Pesaro a Capitale della Cultura, Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro 2024 e Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, hanno incontrato i portatori di interesse, cioè enti e associazioni culturali, università e accademie, che saranno determinanti in ogni fase di questo cammino condiviso. Ogni 24 del mese sarà un appuntamento fisso, da qui a febbraio, marzo, andando avanti per tutto il 2023. Abbiamo iniziato oggi coinvolgendo tutti i dipendenti comunali, perché saranno comunque una base importante del lavoro e della responsabilità di quello che trasversalmente agli uffici dovremo andare a realizzare. Abbiamo proseguito poi incontrando le realtà del mondo del volontariato e ora l'incontro è con i portatori di interesse, con i soggetti della cultura, anche artisti singoli, chiaramente in un gruppo, in un indirizzario che andrà a crescere un po' a valanga, perché naturalmente siamo rivolti agli indirizzi ordinari, ma le porte sono aperte per partecipare a chiunque voglia e per portare il proprio contributo. Contributo che sarà essenzialmente nella prima fase, nel fare parte delle 45 linee di progetto e di intervento che sono presenti nelle dossier, per cui siamo stati premiati dalla Commissione, quindi non è il momento di proporre le proprie iniziative, per quanto poi il dialogo su questo, anche con l'administrazione, c'è in continuazione, ma per entrare a far parte delle 45 linee di progetto, alcune di quelle che abbiamo raccontato anche durante l'audizione. A causa del maltempo invece, ieri il momento istituzionale a Palazzo Ducale con i 50 sindaci della provincia è stato rimandato a martedì 7 febbraio alle ore 17. I comuni, ha spiegato Vimini, saranno protagonisti assoluti e con loro arriveremo a definire il programma, poi l'appuntamento di anticipazione degli eventi principali sarà nel mese di giugno. Da oggi parte un lavoro con le associazioni presenti, con chi poi si raccorderà per le linee di intervento e poi ovviamente c'è anche un ascolto rispetto alle progettualità o anche a progetti da rilanciare che ci verranno sottoposti. E' partito oggi con un lavoro importante sul volontariato, quindi abbiamo coinvolto diverse realtà perché pensiamo che il mondo del volontariato e il programma dei volontari che andremo a sviluppare sarà non una parte ma sarà uno dei progetti principali della capitale italiana, ne sarà probabilmente anche uno degli elementi di successo o di minor successo e soprattutto su base culturale e su base provinciale anche sarà uno dei patrimoni che appunto se tutto verrà svolto per il meglio rimarranno alla comunità della nostra provincia anche a supporto delle politiche pubbliche e culturali di tutti i singoli comuni.